Il marchio Xento, di finissimi gioielli in cristallo, è noto per il prestigio italiano e le particolari cure dei dettagli. Come nasce il marchio Xento? Il marchio nasce dalla storia d'amore tra me e mio marito, perché lui all'età di 16 anni disegnava già per me i primi gioielli. Poi dopo 12 anni ci siamo lasciati, dopo 12 anni ci siamo rincontrati, dalla storia d'amore mia e sua, è nata la fata della felicità dell'Xento. Noi con le nostre creazioni auguriamo di avere un attimo di felicità e di serenità a tutti coloro che appunto l'acquistano e lo regalano. Infatti il logo della fata della felicità le ha a cuore che porta amore, bacchetta magica, tanta felicità e da lì le fatine portano felicità. Unire la passione e l'amore insieme è qualcosa di straordinario, perché trasmetti tutta quella positività, quell'energia che la gente effettivamente avverte. Per noi questo è veramente una cosa bellissima. Le ragazze che sfileranno questa sera per una ragazza per il cinema saranno accompagnate dalla luce dei vostri gioielli. Quali avete scelto? Abbiamo scelto i gioielli prima linea da gioielleria. Noi come ben sa abbiamo lo showroom a Ferrara, poi come corner in tutta Italia, paesi asiatici, Stati Uniti. L'ultimo contratto a Dubai, siamo contentissimi, incrociamo le dita. E ci tengo a dire che stasera alla premiata daremo la parur di Evita. I gioielli realizzati proprio per il musical, col primo debutto proprio all'Ariston di Sanremo e poi in tutta Italia e all'estero. Quindi la vincitrice insomma avrà la parur di Evita. Poi tutte le prime linee da gioielleria, vari colori. Abbiamo portato un po' di tutto per far vedere la tipologia. È importante dire che noi lavoriamo tutti i materiali anallergici, privi di nickel, tutti i cristalli, made in Italy, artigianali per cui un pezzo non è uguale all'altro. E poi tutto l'amore e la passione che ci mettiamo. Il mio marito è lo stilista che è veramente bravissimo. Insomma speriamo che il nostro sogno continui sempre di più. Abbiamo tanti progetti, quindi incrociamo le dita, vedremo pian piano dove arriveremo. Lo showroom sappiamo trovarsi a Ferrara, ma chi fosse interessato alle vostre collezioni, come vi può contattare? Allora lo showroom è proprio a Ferrara in via della Luna numero 12. Però noi facciamo spedizioni in tutta Italia e all'estero, basta contattarci privatamente o comunque scrivono anche direttamente sul sito chiedendo informazioni e quant'altro. E noi quindi spediamo direttamente a casa, quindi non è un problema anche se uno lo vede e ci contatta. Spesso mi chiamano, per me è una giù indescrivibile, chiamano nello showroom per conoscere proprio la storia della fatta della felicità e del prodotto. Noi siamo disponibilissimi e poi inviamo direttamente a casa e poi i corner, man mano che diamo i corner nelle varie boutique, anche negli hotel, perché anche gli hotel hanno il nostro corner di gioielli, noi diciamo dove si trovano in modo che loro trovano dove è la loro città. Quindi che dire, sento le fatine portano felicità.